Il moto mondiale, come noi lo conosciamo, prende il via nel 1949. Ovviamente era tutto molto diverso rispetto ad oggi. Oggi abbiamo campionati con più di 20 gare e invece all'epoca era già tanto se si arrivava a 5 gran premi in un campionato. Nel 1949 ci sono di fatto 4 categorie, più una, 125, 250, 350, 500 e i sidecar, che è una categoria completamente diversa. Ma in tutte le categorie, tranne per la 350, a giocarsi i titoli sono sempre britannici e italiani. E se consideriamo le quattro cilendrate principali, tutti i vincitori hanno vinto solo quel campionato del mondo, a parte Bruno Ruffo, che vincerà altri due titoli. Nella classe regina vince Leslie Graham per un punto su Nello Pagani, in 350 vince Freddy Fritt, in 2,5 conquista la vittoria Bruno Ruffo e in 125 Nello Pagani.